Adiesto, Onzi E io sta zanzara ma rotto le palle Ah ma non so io il capogruppo però, eh Ma che ne so? Ah, il coach, lo so io Hai capito? Credo Allora non è una panta mia, è una panta vostra Che dove fa? Eh, calla, la prossima, no? Qual'è la prossima? Eh, calla, te passi Una cosa, Sasha, una cosa Modifico impostazioni? Eh si, eh no Oh Questa? Eh no Non me, non me le fa fare Aspetta, c'è la mouse Quale dove lo mette? De passing Eh? Oh, passare, ortacci Porca puttana Vai, inizia, vai Fermi Porca mi sei Ma io dopo una seconda Riaumento un pochino la sensibilità Allora guardare, fu sbatto in testa Va bene? Eh? Un secondo riaumento la sensibilità Dopo appena parte E ora sei inizia Guardare che il fratello nero vuole sbatte in testa Si, fratello nero, sto microfono però basta Avete rotto E alla prossima Spendiamo le 5 euro, sto microfono Roppe più a Bioshock e... Eh, Bioshock con gli altro gioco F***a qual è Il personaggio da Piki Se l'hanno rimasto Oh no E' stata nostra Un secondo C'ho la katana di Yoshimitsu Lasciatemi qua qua La pistola Allora invece Sascha lo vedo con l'hash di fallout E' rimasta la pistola A meno medikit Ma avete lasciato perchè Me ne potete via più No, c'è la pistola sulla macchina Aspera, se la vuoi Qua, se fa la cetta Se la cetta Fai doppia No, no, vabbò A così tanto dopo si trova, no? Vai, va No, vabbò Vabbò Boomer E non posso ammazzarlo io C'è, potrei farlo però Ma sì, ma chi se ne pega Ah D Sì Rintano qua dentro Ah ma se ti ne ha katano queste cose Se me gini Ah, preso Ma non si passava sotto a camion Po Ah ma faccio un barcaffè C'è fatto la meta? Eh, lo shot gun E' nata anica GRID! Uuuu, va salaa Cazzo di amare Scutarolla Blitter Bombe sopra Rochelle Rochelle Fatemi prendere Fatemi prendere Peccato che ne puoi portare solo una Eh, che quante ne puoi portare? Qua? Almeno 5 Io preferisco la Molotov In verità Sì, io 100 volte la Molotov La Molotov Fai danno pure al boss Ah, al tank fai danno Eh, ha detto Nino Fatemi Munizioni incendiare Questa roba qua Smoker Smoker Eccolo la Stai là Hunter Ha preso Montage su, voglio montage Stai là Stai là Albu l'ho visto BOOM Eccolo la Vai vai Nostro smoker No, è sempre quello Perché non è morto Sempre quello eh Sì E con questa pistola quando me lo faccio? Eh lo so Io ancora non ce l'ho l'arma Eh ma tiene la catena che per me È una migliore arma che ci sta in tuo gioco Iniziamo al macete Prima ho fatto i campagni interi con il macete Non so se ha avuto l'idea La motosega finisce Nooo Mettete Mettete Qua possiamo andare qua la mia Dentro Dentro Buttate questa tanica qua in mente Dentro di questi appartamenti C***o Sono cascato Aiuto Stai il tank Stai Stai standi del rumore Stai standi del rumore Lo abbassissimo Allora Allora è ancora lottato Apri, DOO Noo 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 Apri E' arrivato E' arrivato Si c'è sta il tank Stai in da qualche porta che non aprite tutte le porte perché c'è Stai in da qualche porta Armi qua sopra Ottimo Mi hanno sentito quando mi hanno avuto apri testo Stavano stuprando Oh Munizioni incendiare qua Sulla destra E dove Qua vedi Ah Mettete le munizioni a terra No 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 Se lo sei usato il faldo No no nel senso apritele O Dove sono le munizioni incendiare? Sanno qua a terra No Ah Ah le devo mettere io Sulla destra Non è Sulla destra No Sulla destra Uhhh Ammazzate no E2 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 Ha lasciato il medicit Ah non l'ha preso? Perché non l'ha preso? E no no lo so però non l'ha preso Eccolo, eccolo, che cazzo sta? Io non c'è un cimbiare ancora che devo trovare, comunque Vabbè, tutto sta? No, ho qualche problema con il gioco Poi... perché? Si è bloccato Un'altra volta Era qualcosa con Windows 10, mi sembra... Probabilmente si Venga la macchina virtuale Eccolo qua, Giochi, guarda, sta azzuppa qua E mi ha preso gli mortacci su Fatemi vedere ste cavolo di munizioni, no Si, si è bloccato? Si Mi aspettiamo Si, è qua Sta una moto dopo qua, eh Se riprendi la pistola, ricarichi i munizioni Eccolo Eccolo Ecco Qui è passato, hanno alcuni punti che devi passare sotto Eccolo Eccolo Fic偏 See RELOAD! Che è caduto? E' caduto? Et lui tiene problemi connessioni forse? E' novenza? Sì, non è così. Sì, non è così. No, dobbiamo andare nel parco. Una... una... No, non è qui, ci sta. Come si chiama? Splitter. F***. 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 Con la U Con la U Quando con la U Mi scusate andare a fare in culo A fare in culo Fai me vedere una cosa Ma ho mai dato un problema Devo togliere qualcosa Ok Adesso lo ritmo Tagli shader Fender multicolor Ok Ok Eccolo la Modellità fi Si Eccolo la Che fa la carica Charger Ma io Non so che cazzo vedi Ma tu riappi il pc Che fai? Eh ho dovuto riappi il pc Ahah pure mi Credo che ti vada connessivo Non nononono Sempegnete le luce Fai la latente a la witch No, se ha allestato ora viene da te ma che non ho fatto niente non ho fatto un c***o ma lo schifo no 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 ma che c***o avete combinato? avete buttato una molotov con me dovete stare a te ti salvo io azz va il reload questo non muore questo non muore f***o ah c***o m6 che sta finendo già le punizioni sto bloccato cos'è che ti turba eri bloccato c'è qualcosa bombe c'è un mitragliatore gioco del 2008 c'è un po' un cazzo sto mitragliatore c'è un mitragliatore c'è un mitragliatore c'è un mitragliatore c'è un mitragliatore